È un momento molto difficile per la squadra italiana, si aspetta il rigore, ovviamente l'Italia fuori di questa Coppa potrebbe essere una catastrofe. Vediamo chi sarà il giocatore, mi sembra... eccolo lui, è il numero 20, ragazzi, si sta preparando adesso al tiro, il portiere argentino nervosissimo, ecco la rincorsa! Siamo fuori, siamo fuori della Coppa, un giorno tristissimo, ma è finita ragazzi. Grazie a tutti!